Grazie, lascio la parola adesso a Paolo Piacentini. Grazie direttore, grazie a tutti, grazie a Stefano. Io andrò velocissimo, mi scuso veramente con gli redattori che devo coordinare perché siamo veramente in ritardo. Passo la parola per Ermete Aracci, che spero che sia collegato, prima c'era. Ermete non ha bisogno di presentazioni, è stato un parlamentare per tante legislature ed è il presidente di Simbola, che ha presentato anche il ministro Franceschini il rapporto su Borghi e Cammini ed in più è l'estensione del Manifesto d'Assisi. Insomma, è una persona impegnata da tantissimi anni su questo fronte. Ermete credo che ci possa dare qualche parola aggiunta, qualche sua considerazione rispetto a questo progetto che stiamo portando avanti. Grazie Ermete, purtroppo mi scuso veramente per il ritardo, ma a te la parola. Credo che devi... il microfono deve attivare, Ermete. Sì, lui. Io vedo... è collegato. Ah, ok. Vai, Ermete. Forse non ha però il microfono. È collegato? È collegato, ma non so... eccolo. Ecco, ci siamo riusciti. Ermete, ma hai sentito? Ti ho presentato, è sensore del Manifesto. Ti ho sentito chiaro e forte, come si può dire, e cerco di essere brevissimo. Mi fa piacere che tu coordini, diciamo, questa parte della riflessione, perché di Cammini ne sai qualcosa, diciamo, no? Io vorrei dire questo. Noi rafforziamo i cammini se li vediamo come una parte del tutto. Giustamente si è parlato di molte cose. Io c'ho sempre in mente una frase di Bust, che diceva, un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Il mondo dei Cammini, il mondo di un turismo diverso, più sicuramente più sostenibile, ma anche con suggestioni diverse, era già il movimento prima di questa terribile pandemia. Questa pandemia ci ha fatto capire quanto quel movimento andasse nella giusta direzione, che è un po' quella poi anche del Manifesto di Assisi, perché il Manifesto di Assisi, firmato da autorevolissimi esponenti nel mondo dell'economia, dei valori, della cultura, della società, dei saperi, ha un punto chiave. Il punto chiave del Manifesto è sostenere che affrontare con coraggio le crisi che abbiamo davanti, a cominciare da quella climatica, non è solo necessario, ma è l'opportunità per costruire un'economia e una società più a misura d'uomo e per questo più capace di futuro. Il ragionamento sui Cammini ci porta in quella direzione e si incrocia con un'idea d'Italia. Io mi ragavo con qualche battuta, con qualche citazione, così è più divertente. Quando Obama, visto ieri una sua bella intervista, una volta ha dichiarato io se vado a cena con mia moglie ordino un vino italiano, è chiaro che non è solo la qualità organolettica del vino che lo porta a ordinare quel vino, ma l'idea è che un vino italiano richiama un'idea d'Italia. Dietro quel vino hai paesaggi, storie, emozioni. Quando Banchi Munti, quando c'era l'Expo di Milano, dichiarò quando metto una gravatta italiana mi pare che mia moglie mi voglia più bene, è chiaro che dietro di quello c'era l'idea che una gravatta italiana richiamava l'Italian way of life, un modo di vita che nonostante i nostri tanti difetti è ancora fortissimo nel mondo. Noi siamo un modello per molti al di là anche della nostra percezione, al di là anche delle nostre qualità. E quando Libescan, l'autore del grande architetto che ha ricostruito Ground Zero, dice che nei borghi italiani c'è il DNA dell'umanità, anche lì c'è un ragionamento in cui è difficile guardare i settori da soli. È difficile guardare il turismo solo come turismo, svincolato dal paesaggio, dalla storia, dalle tradizioni, dalle produzioni, produzioni agricole ma anche produzioni manifatturie. Allora io penso che una chiave anche per questo tipo di turismo è tenere bene questo atteggiamento turistico. È la maniera con cui anche come simbolo abbiamo lavorato sui cammini perché i lavori che noi abbiamo fatto hanno sempre inteso a incrociare i cammini con i piccoli comuni, con le produzioni, con le attività economiche, con le storie. Poi i cammini alla fine della fiera nascono da tre filoni principali. I cammini hanno per motivi commerciali, religiosi o militari. Cioè non è che erano per motivi turistici. Non so, il turismo ripercorre strade che sono state strade di costruzione delle nostre comunità e delle nostre identità. Ecco, qui secondo me c'è veramente una grande opportunità e quando il ministro Franceschini io condivido quella battuta, dice che quel ministero è il ministero economico più importante, lo è per questo motivo, non per il turismo. Il turismo è importantissimo e va tutelato. Ma lo è perché quella idea di incrocio fra turismo, cultura e bellezza è una chiave per un mondo più sostenibile. È una chiave perfino per combattere i mutamenti climatici, perché la bellezza è ecologica. Cioè quando tu utilizzi la bellezza consumi meno energie e meno materie prime. Ma è una chiave, è un punto di forza dell'Italia. Finisco dicendo che, per esempio, uno che aveva capito queste cose per tempo era stato, lo dico perché da pochi giorni sono passati cento anni dalla sua nascita, era stato il presidente Ciampi. Perché io ricordo benissimo che nella sua spinta a ricostruire un'identità dell'Italia, un'identità della patria, lui appoggiò da subito la battaglia per i piccoli comuni. Io ci ho messo 15 anni a far approvare quella legge che ha la mia prima firma, ma in una delle iniziative fatte allora dall'Egambiente, lui mandò un messaggio che sembrava visionario allora, perché lui disse guardate che la battaglia per i piccoli comuni è un pezzo dell'identità della nostra patria e disse anche le nuove tecnologie sono essenziali, perché possono creare le condizioni perché nei piccoli comuni ci siano nuove imprese, nuove imprese giovani, perché o la rinascita dei piccoli comuni è anche un'avventura, oppure sarà più difficile. Ecco, io quello che voglio dire è che la partita dei cammini costruisce un'avventura che l'Italia può percorrere. Grazie.